Coltivazione intelligente per profitti maggiori. Ora, con il nostro 6R, potete rendere tutto questo possibile. Caricate semplicemente una mappa di prescrizione che avete creato con un partner esterno. Selezionate la macchina, l'attrezzatura e l'operatore. Inviate quindi l'ordine di lavoro al display Gen 4 sul vostro 6R. Una volta entrati nel campo, basta un clic e sarete pronti a partire. One Click Go Auto Setup trasmette le impostazioni richieste alla seminatrice tramite Isobus. La seminatrice si regola in maniera completamente automatica. Il controllo Sezioni attiva e disattiva automaticamente le sezioni per eseguire la semina e l'applicazione del fertilizzante e, evitando la doppia semina e la doppia fertilizzazione, permette di ottenere risparmi significativi durante la semina. Il controllo Sezioni e le applicazioni del controllo del dosaggio variabile avvengono con il display Gen 4 integrato del trattore. Il controllo del dosaggio variabile permette di applicare semi e fertilizzante nella quantità necessaria in base alle rispettive mappe di applicazione. Sul Seyere, le funzioni base per l'applicazione agricola specifiche, quali JDLink, Predisposizione per Auto Track, Operation Center e One Click Go Auto Setup, sono di serie. Ecco come potete monitorare l'avanzamento del lavoro in tempo reale, sapere quando è terminato e individuare subito scostamenti tra applicazione pianificata ed effettiva. Tutti i dati sono ritrasmessi wireless all'Operation Center in tempo reale utilizzando JDLink per la documentazione e sono disponibili in tempo reale su tutti i dispositivi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!